Buongiorno, benvenuti signori staggiori al aeroporto di Nuri. Finalmente siamo arrivati ed ovviamente vi voglio far vedere questa fabulosa vista. Guardate andiamo fuori. Questa vista è fabulosa, la città di mare e questa è la zona hotelera. Quello che vedete di là è la laguna e adesso vi faccio vedere l'abitazione. È abbastanza grande, è bellissimo ovviamente, a parte questa vista che è fabulosa che avete visto già. Vi faccio vedere. Qua stelle tonne, cioè il letto, non le tonne, qua c'è il letto, la red, la tv, il ventilatore, l'aria condizionata, qua c'è la luce. E' così. Siamo a 22 gradi, qui dentro. La luce di cortesia. La luce di cortesia. La luce di cortesia del torre. Quella che rimane, che forma è la luce di rimorze. Si, se deve lasciare questo, qua. E ovviamente, ah, questa è una scrivania, questa qua, ovviamente con la caffetera americana, il caffè americano. E qua c'è l'armadio. Questo qua. Così. E ovviamente quello che ci piace di più, è questa vista fabulosa. Vi faccio vedere il bagno. Che ha due lavandini. Questo è mio. E questo altro è quello di red. Quello è mio. Quello a destra. Perché? Perché questo ha lo specchio. E questo è più comodo. E questa è la doccia. Questa qua. La luce normale. Il WC. Che non mi ricordo come si chiama in italiano. E ovviamente le valiche. Che sono qua. Allora, per essa cosa... Forse! È veniva! Sì! Allora. Allora. Grazie a tutti. Sono un po' stanca, veramente vi devo dire, però oggi ho deciso di questa giornata perché sarà l'ultima che ho a Cancun. Questo mi ha iniziato un po'. Siamo fuori. Siamo qua a Lopi. Sto con Red. Ciao Red, che è appena svegliato. Buongiorno. Questa è l'entrata all'hotel. Questa è la vista dove si vede, non il mare, quello che voi vedete. È la laguna o il lago da Cancun. Qua si trova il ristorante dove tra un po' andiamo a fare un po' di colazione. E qua il resto, questo è un piccolo bar, se potevo dire, è un bar. Dove ti danno, cioè la reception di questo hotel, vi faccio il giretto perché questo mi è piaciuto un sacco come sta adobato. È molto, penso, molto bello, molto minimalista secondo me. A me piace molto questo stile. Qua sta il pool e così. Ma quanto è bello. Bellissimo questo hotel, a parte il servizio. È molto, molto buono, veramente non ho niente cattivo da dire. Ah, andiamo a vedere la piscina qua fuori. Questa è una perché ha oltre a piscina che sta vicino. Allora, andiamo a la spiaggia. L'altro al lato. L'altro al lato. E con un po' di vento. Con questa parte. E la mia colazione mexicana, ovviamente. E appunto perché oggi è l'ultimo giorno che saremo qui in Messico. E con l'Italiano. E poi lui ovviamente con la sua colazione è l'Italiano. E questo è il ristorante, bellissimo. Molto comodo il servizio è buono. Lo ripeto. E là sta il bantone, il macchino. Io prendo il succo di arancia e un caffè. E la colazione di sicano, ovviamente. Prego il caffè americano perché non c'è ovviamente il cappuccino. Io mangio e bevo tutto. Non è che perché sono italiano devo mangiare per forza questa roba. In realtà prima di questo ho già mangiato tutto cotto e roba del genere. Ah sì, è vero. Certo, certo. Quindi intanto noi finiamo di fare colazione. Ci vediamo la lapicina. Adios. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hola. Hola, sto escogiendo però non mi ha deciso. Quiero algo di culo. Siamo nella piscina e questa è la vista fabulosa che si trova nel mare. Dopodichiamo là ci sta un bar, un ristorante. Dietro di noi si trova un bar. Questo posto è molto, molto bello. Sono molto innamorata di Cancun. Ovviamente mi dispiace un po' il fatto di dover partire, però comunque sono contenta perché cioè per questo cambio penso sia molto, sarà molto interessante, molto divertente. Comunque mi invito a seguirne perché prossimamente vi farò altri tanti, 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 tanti video di trucco, di blog, di tante, tante cose. Così che noi ci vediamo. Alla prossima, un bacione. Ciao. Ciao.